Si parla tanto di liberalizzazioni ma le vostre professioni non sono già liberalizzate? Ma sono già libere, infatti alcuni punti in cui il decreto liberalizzazioni prende in considerazione va all'esatto contrario della liberalizzazione, basta parlare del tirocinio, cioè quando obbliga un professionista per poter fare la professione, dover fare un tirocinio da 6 a 18 mesi è contro la liberalizzazione perché per gli ingegneri per esempio attualmente non c'è tirocinio, quindi un giovane ingegnere appena laureato dà l'esame d'estato come prevede la Costituzione, si iscrive all'ordine e fa la professione. Quindi assolutamente questo decreto non va a favore della crescita, se per crescita si intende trasferire le attività che fanno i professionisti verso società di capitale dove possono fare la professione anche persone non professioniste ma con il solo scopo di avere un utile affire anno, beh questo non credo che sia crescita. Oggi è una giornata nazionale di mobilitazione, forse è la prima volta che il mondo delle professioni decide di mettersi insieme per far sentire la propria voce, voi rappresentate quasi il 15% del PIL di questo sistema paese? Sì, oltre il 15%, il 15,1%. Oggi è una manifestazione importante, non è una manifestazione di protesta la nostra, è una manifestazione di proposta. Noi non vogliamo che con il decreto liberalizzazioni sia una professione sottoposta a vessazioni di questo tipo, vogliamo un riconoscimento giusto che crediamo di meritare, un riconoscimento sociale per quello che facciamo e per quello che ogni giorno facciamo. Il nostro lavoro è molte volte sussidiario anche all'attività della pubblica amministrazione, ove questa presenta delle deficienze e delle inefficienze. Quindi molte volte ci assumiamo delle responsabilità in proprio per conto della pubblica amministrazione. Quindi noi vogliamo che il nostro ruolo sociale sia valutato per il giusto peso.